Buongiorno e bentornati nel nostro spazio benessere. Oggi parleremo di un argomento che sta a cuore a molte di noi e cioè a come tornare in forma dopo una gravidanza. Una delle trasformazioni che si fatica ad accettare è proprio quella regata alla forma dopo il parto, il non vedersi più come prima, il non vedersi più rapidamente tornare come si vorrebbe. Ecco, allora noi siamo andati da un fisioterapista, un esperto che ci può spiegare quanto questo lavoro possa essere fatto con la muscolatura, con la respirazione attraverso una guida esperta. Vediamo e poi torniamo in studio. Dobbiamo sapere che dopo la gravidanza tutte le pareti si ritrovano in uno stato di accorciamento quindi sopra abbiamo il muscolo diaframmatico della respirazione che deve recuperare questo movimento di abbassamento verso il pacchetto viscerale. Davanti ovviamente i muscoli retti e i muscoli trasversi dell'addome ma soprattutto sotto abbiamo l'impegno del pavimento pelvico, i muscoli del perineo. Questi sono molto importanti. Dopo il parto c'è un normale rilassamento è una lassità di questi muscoli. Innanzitutto bisogna riprendere coscienza di questo pavimento pelvico, di questi muscoli e incominciare a fare un lavoro di chiusura, di rinforzo perché altrimenti se il diaframma da sopra spinge e gli addominali da davanti spingono devono trovare anche sotto una parete pelvica che contiene le pressioni. La cosa principale è che si deve ristabilire un equilibrio delle giuste pressioni tra l'ambiente addominale e l'ambiente toracico. Queste due pressioni si devono ristabilire nel giro di 4-5 mesi. Questo lavoro di remise in form, come si suol dire, dottor Lazzeri, non sempre funziona. Quali sono le donne più a rischio? Diciamo che quelle in cui funziona meglio sono sicuramente donne giovani alla prima esperienza di parto con tessuti più tonici ed elastici e soprattutto donne che sviluppano questo allontanamento minimo. Quelle più a rischio sono donne con parti multipli alle spalle o che hanno preso parecchi chili durante la gravidanza, per cui l'allontanamento di questi muscoli della parete addominale è tale che poi non riescono a tornare e a saldarsi al centro della parete. Come le può aiutare queste donne? Quando si può chiedere aiuto alla medicina estetica? Le pazienti al momento del consulto portano la loro esperienza, parlano della sintomatologia che hanno a livello digestivo, a livello urinario e i dolori alla schiena. Con una visita adeguata clinica dell'addome riusciamo a capire l'entità della diastasi, di questo allontanamento dei muscoli che viene confermato poi mediante esame icografico. Successivamente viene spiegato e suggerito qual è l'intervento chirurgico che può essere fatto per correggere la situazione. Quali risultati si ottengono e che cosa può fare lei per loro? L'intervento permette il riposizionamento dei muscoli al centro della parete addominale, creando una sorta di cerniera che rende la parete addominale nuovamente continente. Questo permette il superamento di tutti i sintomi legati al problema. Inoltre nella stessa seduta portiamo via quella pelle in eccesso e al tempo stesso tonifichiamo l'addome. per cui la paziente vede il suo corpo tornato come prima della gravidanza.